Se io avessi fatto l'errore i Terracciani, i Stragosci, i Peppi, i Giovanni, marcerevano, mi facevano uscire dalla curva con l'elicottero, mi rompevano i cabassisti fino a casa. È chiaro o no? È chiaro che giustamente, come si chiama, Felice ha detto? Giovanni. Giovanni, è certo, il gol di oggi è elementare, cioè se sto in porta, se sto andando avanti col ginocchio, non mi faccio avvicinare il giocatore, anche se sto alto 1,75, vado avanti col ginocchio, la palla me la piglio io, ma non esiste al mondo che tu vai senza mettere a protezione il ginocchio e perdi la palla. Tiene 20 anni, però non è possibile. Andiamo a leggere gli altri messaggi.